E un saluto a tutti voi amici, allora oggi faccio questo video che magari può essere un pochino bruttarello perché volevo presentarvi, volevo farvi capire quanto è difficile moddare un telefono nel 2020 in questo caso sto parlando del mio Xiaomi Redmi Note 7 che è un telefono che io sto veramente adorando e che in realtà avevo già moddato precedentemente e mi ho avuto veramente tanta tantissima difficoltà nell'aggiornarlo all'ultima versione di una Roma che io amo tantissimo ovvero la CR Droid che è arrivata alla sua versione 6.6 che veramente se la potete installare anche su altri telefoni eccetera ve la consiglio perché secondo me è la migliore Roma Android per completezza e per capacità e funzionalità che ha veramente veramente straordinaria non ha senso che io faccia un video per presentarvela perché ne trovate mille online ma veramente è la miglior Roma che possa esistere per gestione energetica, per gestione funzionalità, per pulizia e tutto quello che ne consegue è veramente straordinaria se non fosse che è complicatissima da installare ormai su qualsiasi dispositivo io vi voglio portare la mia esperienza sul Redmi Note 7 proveniente per di più già da un'altra ROM moddata per cui già con il bottolo sbloccato e tutto quanto allora cominciamo ovviamente dalla pagina ufficiale della ROM della CR Droid che possiamo trovare chiaramente su XDA dove ovviamente ci viene detto di che cosa abbiamo bisogno della ROM, di alcune gaps, di una recovery particolare e di un firmware allora io vi riassumo quello che bisognerebbe fare e poi vi spiego esattamente quello che ho dovuto fare allora la prima cosa che dovete fare è aggiornare la recovery per aggiornare la recovery cercatevi questa recovery la Orange Fox Recovery Project che è una recovery modificata, una TVRP modificata da questo team che tra l'altro ha anche una grafica relativamente simpatica e carina se il telefono mettesse a fuoco sarei anche molto molto più contento che comunque la potete, la scaricate banalmente da qui molto chiaramente la flashate come uno zip sulla vostra recovery vecchia e lei funziona senza il benché minimo problema al primo colpo dopodiché avete necessità di installare un firmware particolare per far funzionare la ROM su questo telefono se non fosse che c'è un piccolissimo problema allora al di là che loro danno un link che è questo qui dove poter scaricare tutti i firmware per il nostro dispositivo, per tutti gli axiomi ma comunque al di là che la procedura possa funzionare crea problemi se avete precedentemente installato altre ROM o avete altre release software quindi quello che dovete fare è andarvi a scaricare dalla pagina MIUI ufficiale l'ultima ROM global possibile in versione zip molto molto banalmente questa qui e ve la flashate direttamente dalla recovery in modo da avere il telefono all'ultima ROM stock e tutto quanto se per caso avete problemi nell'installarla potete sempre installarla da fastboot con l'altro zip che è insomma questo zip qua che è quello in flash proprio da mi flash e tutto quanto poi vi spiego perché l'ho dovuto installare una volta che avete installato la ROM la recovery non si cancella perché questa recovery Orange Fox è fatta apposta per non farsi sovrascrivere per cui non avete questo problema e potete iniziare a lavorare su come effettivamente installare la ROM ora di che cosa abbiamo bisogno? delle gaps loro suggeriscono di installare queste nick gaps non fatelo, non installatele neanche le bits gaps andate sulle classiche open gaps io ho scelto le micro perché altrimenti ci sono grossi enormi, enormissimi problemi nel momento in cui poi dovete fare la configurazione Android per cui io vi garantisco spiegate le open gaps dopodiché seguiamo i passi una volta che entriamo in recovery qui ci viene detto di formatare system vendor user data no formatate soltanto la cache la davlic cache formatate system non formatate assolutamente vendor e formatate user data dopodiché non flashate il firmware ma riavviate il telefono in recovery in modo che le partizioni vengano comunque pulite e tutto quanto altrimenti non potete riflesciarci sopra le cose e a questo punto potete flashare la ROM classica con lo zip che abbiamo qua che avevo scaricato anch'io questo l'ultimo zip e tutto quanto molto bello che tranquillo e le suoi gaps assieme poi riavviate e il telefono parte se però se però il telefono non parte e rimane in boot loop ci sono dei problemi ci sono dei problemi perché può essere che manchino o si sono corrotti dei file nel momento in cui avete fatto tutte queste operazioni o meglio non tanto dei file ma delle porzioni delle porzioni di memoria di immagine che fanno sì di far funzionare sia la certificazione della ROM che la certificazione di certe funzionalità e queste cose sono in particolare due una è il famoso file persist.img e l'altro è il famoso vbmeta che in altre ROM precedentemente facevano flashare a mano proprio perché c'era questo problema in questa ROM qui in teoria non dovrebbe esserci però è un problema che può sorgere come ce ne accorgiamo ce ne accorgiamo quando una volta è refreshata dal zip la MIUI ci comincia a dare errori strambi come per esempio ci comincia a dare un pop up che ci dice che la ROM non è certificata per la posizione o cose del genere cosa dobbiamo fare in questo caso dobbiamo scaricarci il pacchetto della global per la versione diciamo la fast boot e uno potrebbe dire se volete potete flashare da fast boot io non ve lo consiglio perché vi pialla anche la recovery potrebbe in teoria non dovrebbe disabilitare però potrebbe succedere che disabiliti l'OM unlock e quindi non vi consiglio di farlo quindi cosa fate scaricate il pacchetto per fast boot e estraete da esso il file vbmeta.img e il file persista.img le copiate all'interno della memoria del telefono e le flashate però attenzione non dovete flasharle quando la ROM ce l'avete in boot loop dovete ricominciare da capo quindi installare tramite zip la vostra MIUI Global l'ultima disponibile in questo caso la 11.0.8 poi avviate il telefono flashate persiste e vbmeta e dopo di che avete il telefono diciamo a posto per poter ospitare alcune ROM se non fosse che ho avuto un altro problema perché pur facendo questa cosa per qualche ragione non mi accettava questa ROM e quindi cosa ho dovuto fare ho dovuto passare prima precedentemente per quella che ufficialmente la ROM derivata della CR Droid ovvero ho dovuto scaricarmi la linea OS ultima la 17.1 che butta su qualsiasi firmware butta su qualsiasi diciamo release precedente della MIUI e che ha fatto sì di prepararmi in qualche modo il telefono ad ospitare le altre ROM e quindi in questo caso di ospitare questa ROM perché altrimenti non c'era stato verso di farlo funzionare ora ditemi voi se io devo perdere per moddare un telefono a giorno d'oggi nel 2020 oltre che scaricare 10.000 file fare 10.000 tentativi per cercare di buttare sto telefono e averlo al top oppure non mi conviene e bene o male mi conviene utilizzare le ROM stock che in un certo senso funzionano bene se non perché io sono matto e non mi piace la MIUI e uno potrebbe dire e allora perché ti sei comprato un Redmi Note 7 perché avevo intenzione di moddarlo e di fare queste cose ora al di là di questa follia e al di là di questo video brutto vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.